Ciao, ciao Serena, ciao a tutti. Grazie, ti facciamo vedere in un servizio di Giovanna Savini, così per quei due, tre che non ti conoscessero bene ora ti conoscono. Vediamo, Giovanna Savini. Ok. Il suo è uno stile libero, in basca è non solo. Filippo Magnini, il campione di Pesaro, classe 1982, due ori mondiali consecutivi, dei 100 metri stile libero, è considerato nella sua specialità uno dei migliori nuotatori italiani di sempre. Remagno, così è stato soprannominato quando nel 2005 a Montreal ha vinto, segnando la seconda miglior prestazione di tutti i tempi. Nel 2007 a Melbourne la riconferma, diventa così un personaggio anche del costume, del gossip, fa notizia la lunga storia d'amore con un'altra stella del nuoto Federica Pellegrini. Alchi e bassi si alternano negli anni, nel 2017 si deve difendere dall'accusa di doping, assolto in pieno dopo tre anni di lotte giudiziarie. Oggi a 39 anni, papà della piccola mia è pronto ancora una volta a buttarsi a fare il grande passo. Le nozze con Giorgia Palmas rimandate per ben due volte a causa della pandemia, poi il sogno di una nuova Olimpiade con la stessa voglia di rituffarsi nelle avventure della vita. Eccoci qui Filippo, sei qui soprattutto come testimoni di Oxfam, adesso ne parliamo, però prima parliamo di un po' di cose belle. Prima cosa, Mia, sei papà da poco tempo, come ti trovi? Eh beh, la sensazione più bella, la cosa più bella che potesse capitare, che ci potesse capitare a me, a Giorgia, quindi a Sofia. Quindi siamo felicissimi, ogni giorno è una scoperta nuova, ogni giorno mi innamoro sempre di più ed è veramente bellissimo, tutto bellissimo. Chi è più bravo a cambiare i pannolini, tu o Giorgia? Giorgia, Giorgia, più bravo a Giorgia, però mi diverto molto anch'io, mi piace, l'ho sempre fatto, continuo a farlo, però ovviamente io poi prendo spunto da quello che fa lei. Non avevamo dubbi che tu sei un papà moderno, un papà intelligente, per cui fai quello che devi fare per tua figlia. Senti? Beh, assolutamente. Assolutamente, esatto. Peraltro appunto ti stai preparando per Tokyo e hai scritto questo post nel quale tu dici ci sono momenti della vita in cui nulla sembra più avere un senso, tutte le certezze vengono spazzate via da qualcosa senza controllo. Quello che hai costruito inizia a sgretolarsi e ti senti sprofondare, centimetro dopo centimetro, in quei momenti capisci chi sei. Hai due possibilità, o ti lasci andare oppure riprendi a lottare per dimostrare chi sei un vincente. Cosa è successo Filippo e che cosa ti spinge così a rimetterti in gioco ad un'età nella quale non sei più un ragazzino, ma insomma sei comunque quarantenne, ma tanti sono stati campioni che hanno sfidato le Olimpiadi a 40 anni. Certo, è un'impresa quasi impossibile, nel senso che nel nuoto, almeno nel mio sport, nessuno al mondo si è mai qualificato all'età di 39-40 anni. Quindi insomma sarei il primo al mondo a compiere un'impresa del genere. Non è assolutamente facile, però ho deciso di rimettermi in pista in questo caso, di rimettermi in basca proprio per dimostrare comunque al mondo anche che mi ha voluto male, che ha provato a infangarmi, che insomma non si erano liberati di me, anzi sono sempre stato un atleta che ha gareggiato per l'Italia, ha vinto per l'Italia e ancora oggi vorrei provare a farlo. Ovviamente la mia vittoria è già essermi rimesso appunto in basca e aver creato questo bellissimo percorso sportivo comunque. Quindi io ho già vinto, però poi vediamo se riusciamo anche a compiere qualche risultato in più. E ti ringrazio di averci detto che hai già vinto, perché nella vita, io diciamo sempre, la vittoria, la medaglia per uno sportivo è importante, come sono i successi della carriera, i successi in amore per ognuno di noi. Però nessuno deve sentirsi inferiore agli altri perché magari è meno fortunato. Quindi questo è un bel messaggio quello che ci dai e che io mi fa piacere sottolineare. Perché ricordiamolo, peraltro nel tuo caso tu hai subito una grossa ingiustizia perché eri stato squalificato e poi hanno ammesso che non era giusto, che avevano sbagliato. Era stata una sentenza, è stata annullata proprio a febbraio dell'anno scorso. Che cosa hai provato quando sei stato accusato ingiustamente e che cosa hai provato quando invece ti è stata resa giustizia? Più rabbia, più soddisfazione? Ma diciamo che più che aver ammesso di aver sbagliato loro glielo ho dovuto far capire io per tre anni di fila perché invece erano molto decisi nella loro scelta, quella di accusarmi nonostante poi ci fossero le prove e le prove dimostravano tutto il contrario. Però comunque io come nel mio sport ho sempre dimostrato che non mollo mai e che ho sempre vinto appunto negli ultimi metri. Anche questa volta ci è voluto molto tempo purtroppo perché devo dire la verità non si stava parlando di giustizia sportiva ma molto probabilmente di ingiustizia sportiva quindi ci ho impiegato molto tempo, molto tempo, molte energie anni di pianti, anni di spese economiche assurde soltanto per dimostrare la verità. Poi ce l'abbiamo fatta, anzi la mia è stata una vittoria schiacciante forse la vittoria più importante che un atleta avesse mai fatto contro la giustizia sportiva e poi come vedete le cose si stanno riproponendo adesso non voglio tirar fuori altri casi di altri atleti però ultimamente avete avuto anche la riprova quindi la mia è stata una vittoria per tutto il mondo dello sport quando ho avuto la notizia non ho urlato di gioia ma è stato più un sospiro di sollievo perché poi un atleta come me ha notato per 27 anni ho fatto quattro olimpiadi adesso dico un po' al mio palmarès ho vinto quattro mondiali ho vinto 17 titoli europei tutti per me, per la mia famiglia, per le persone che mi vogliono bene ma anche per il nostro paese quindi quando poi il tuo paese di punto in bianco prova anzi non il mio paese, alcune persone provano a volerti infangare ovviamente non capisci neanche il perché quindi era giusto andare avanti Filippo tu hai capito il perché che spiegazione ti sei dato? ma le spiegazioni, i motivi dentro di me penso di averli capiti ma li tengo nel mio cassetto personale perché a un certo punto ho capito che non era tanto importante capire il perché alcune persone volevano queste bisognava concentrarsi soltanto sul dimostrare poi la verità e ho deciso di evitare di perdere appunto energie preziose e di farmi il sangue cattivo per persone che poi in effetti non se lo meritano neanche quindi ho sempre risposto poi col sorriso, con la verità e finalmente le persone intelligenti l'hanno capita anche se devo dire la verità che poi l'Italia, gli italiani nel mio caso mi hanno sempre sostenuto e hanno sempre capito che si parlava di Fandonia e questo mi ha dato forse anche la forza di andare avanti non ero da solo bene allora parliamo adesso di Oxfam bene anche per la tua saggezza per come sei riuscito a gestire il tutto anche a livello psicologico perché penso che non sia stato facile Oxfam slogan della campagna è dona acqua, salva una vita perché? Beh, innanzitutto in questi giorni poi anzi oggi che è proprio la giornata mondiale dell'acqua penso che sia giusto portare l'attenzione cioè Oxfam con questa campagna vuole portare l'attenzione proprio al tema acqua noi siamo molto fortunati siamo un paese fortunato fortunati siamo noi persone fortunati e non ci rendiamo conto di quanto l'acqua la disponibilità giornaliera di acqua a volte per qualcun altro nel mondo è un qualcosa di impossibile reperire pensiamo a due paesi per esempio dove due paesi che hanno un conflitto che sono in guerra come lo Yemen come in Siria quant'altro i bambini sotto i 5 anni muoiono 20 volte di più per carenza di acqua rispetto per ferite da guerra e questo è un dato per me sconcertante noi sprechiamo l'acqua in tanti modi e molte persone non ce l'hanno né per lavarsi né per cucinare né da bere e quindi ecco Oxfam ha deciso di lanciare questa campagna molto importante anche perché a caso della pandemia purtroppo questa situazione si è aggravata quindi una persona su tre nel mondo non dispone di acqua pulita ed è una cosa assurda quindi io oggi sono qua no dicevo anche perché poi siamo presi ovviamente dalla nostra tragedia nella quale siamo immersi ma ci sono tragedie che non vanno dimenticate e quindi vi do quello che noi possiamo fare ognuno di noi può donare fino al 28 marzo 2 euro con un sms oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa al numero 45 584 acqua che salva la vita è l'hashtag possiamo ovviamente prevenire il diffondersi di epidemie come il coronavirus quindi anche diciamo alla lunga è anche più anche importante anche perché il mondo è globale come sappiamo se stiamo bene noi devono stare bene anche gli altri e viceversa perché siamo sempre più interconnessi per cui pensando agli altri pensiamo anche a noi stessi così come pensiamo alla tua adorabile mia che ti auguriamo cresca sempre in salute e bellezza grazie Filippo davvero grazie per essere stati con noi grazie a voi mi raccomando donate 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 bravo 45 584 bene grazie Filippo Magnini